Il grande libro del ghiaccio racconta una storia lunghissima e in qualche misura straordinaria perché il ghiaccio è l'elemento più plastico, più volubile e anche più ricco di testimonianze della nostra storia su questa terra e si parte da quando l'uomo ancora non esisteva, non c'era e quindi si parte dal rebus, dal mistero delle graciazioni di cui ancora oggi non abbiamo le idee chiarissime ma di cui vediamo i segni stratificati sul territorio e i segni del ghiaccio ci hanno segnato il paesaggio, l'ambiente e anche la nostra percezione del mondo. Un tempo i ghiacciai erano molto temuti, erano molto sfuggiti perché si era convinti che fossero addirittura opera del maligno, che sostanzialmente corrispondessero ai peccati degli uomini, che fossero un castigo di Dio. Oggi al contrario siamo in un'epoca in cui noi semmai viviamo un senso di colpa per la sparizione del ghiacciaio. Questo ci racconta molto sulla nostra civiltà, su quanto siamo cambiati. Da un lato ci dice quanto oggi il paesaggio glaciale sia entrato dentro la percezione del mondo e noi oggi lo viviamo come qualcosa di bello, di positivo il ghiacciaio, anche perché ci abbiamo costruito sopra i viaggi, le descrizioni dei paesaggi artici, dei paesaggi alpini, dei paesaggi malaiani e tante storie che ci affascinano. Quindi viviamo con negatività la scomparsa del ghiacciaio. In qualche modo ci sentiamo in colpa perché siamo sicuramente colpevoli, siamo sicuramente coprotagonisti di questa sparizione o almeno dell'accelerazione della sparizione perché l'effetto serra ha causato una rapidissima sparizione, cosa che una volta si vedeva nei tempi di molte generazioni. Oggi si vede in una vita, si vede il cambiamento quasi a vista d'occhio. Quindi i ghiacciari sono anche questo. E inoltre sono un'infinità di storie straordinarie dall'epopea dei poli, dall'epopea dell'alpinismo fino all'uso domestico del ghiaccio perché il ghiaccio è sempre stato utilizzato come un refrigeratore. Prima dell'invenzione del frigorifero si cercava in tutti i modi, almeno chi poteva permetterselo, di portare il ghiaccio in casa per conservare i cibi deperibili. Quindi sono un'infinità le sfumature, un'infinità le storie e un'infinità le suggestioni che il ghiaccio porta nella vita dell'uomo.